Ben ritrovati con questo appuntamento con l'analisi sui 40 titoli del paniere del Fuzzimib questo video lo sto registrando in data 10 giugno sono le 18 e 14 come potete vedere già dall'orario anche qui in sovraimpressione quindi fermi mercati chiusa piazza affari negativa c'è una candela rossa e chi nasce Donald Donald riesce a questo l'ho messo più in alto che l'altro giorno l'italiava il ticker sotto tagliava la testa povero Donald dicevo c'è la candela rossa c'è la candela rossa su piazza affari l'indice italiano e di conseguenza si cominciano a vedere tutta una serie di inversioni sui titoli che compongono il paniere del Fuzzimib già alcune sono state partite altre ne stanno arrivando ricordo quindi piazza affari chiusa è 10 giugno e quindi è il momento di fare l'analisi su questi grafici Aikinashi daily giornalieri le cui indicazioni operative di analisi le candele rosse ce ne sono una sfilza di candele rosse sono valide a partire dall'11 giugno quindi tu 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 stai guardando questo video l'11 giugno l'analisi l'ho fatta il 10 giugno ma è operativa dall'11 quindi attuale aggiornatissima poi mi avete in onda l'ultimo sell sull'analisi commento l'articolo sell intesa di ieri commenti tantissimi ringrazio ovviamente tantissime letture anche chi insomma ha scritto delle cose un po' di da me il circo è quello che scrivete voi vabbè vi voglio bene vi voglio bene anche gli haters chi invece ha commentato allora prossimo obiettivo su intesa san paolo adesso farò vedere ho indicato quello che il supporto e poi vi spiegherò perché comunque sono analisi giornaliere io ora come ora dico quello che il prossimo obiettivo il supporto perché quello che vede adesso i grafici se c'è stata poi la candela rossa non è che la disegno io la coloro io la candela rossa Aikinashi vuol dire che le pressioni a ribasso sono maggiori presenti in quel momento e che ora come ora vado a identificare quello che il livello dove se effettivamente ci sarà il trend al ribasso e vedere fino a dove fino a quando resta colore rosso può andare anche più giù eventualmente o più su se invece c'è il colore verde adesso sono tutte rosse e quindi sono analisi day by day venite vieni vieni ti invito a partecipare alla mia trading room è gratis tre ore la mattina tre ore il pomeriggio viene sul mio sito renatodecarolis.it mi trovi su facebook su instagram linkedin twitter sono dappertutto e partecipa al trading room dove tutti tutti hanno accesso tutti possono partecipare viviamo commentiamo i mercati tutti hanno il microfono aperto se lo vogliono andare anche in video e parliamo ne parliamo ci confrontiamo ci confrontiamo facciamo analisi di altri titoli e magari approfondire il discorso delle analisi sui titoli indici forex materie prime seguiamo tutti tutti i mercati ovviamente questa io adesso sto registrando ricordo di mercoledì 10 giugno c'è il meeting della fed molto dipende insomma da quello che dirà o non dirà farà o non farà la fed tu che stai vedendo l'11 giugno sai già cosa è successo è quella che potrebbe essere l'impronta sui mercati il giorno dopo ma va bene lo stesso le analisi ripeto valgono dall'11 giugno se qui tutti questi ribassi dall'11 giugno saranno tutti rialzi intanto aspettare la conferma della violazione della resistenza di riferimento per parlare di nuova inversione in questo caso al rialzo visto che sono praticamente tutti a ribasso e poi aspettare la fine della giornata dall'11 12 13 giugno se ci sarà effettivamente una violazione o meno però meglio guardare i grafici sicuramente riesco a spiegare bene comincio con il mostrare quelle che sono le novità rispetto all'analisi di ieri ovvero potete già vedere la sfilza di titoli dove è comparsa la candela rossa ai chi nasce c'è la candela rossa confermata in una giornata in cui il titolo ha chiuso col segno meno può capitare che c'è la candela rossa in una giornata in cui il titolo chiude l'azione chiude con il segno positivo perché le candele chi nasce hanno una formula dietro c'è una formula molto simile a quella dei pivot point che prende in considerazione i prezzi della giornata precedente ecco perché può esserci questo può capitare che c'è la rossa ai chi nasce in una giornata in cui chiude il positivo però io voglio essere prudente donald secondo d'accordo con me vogliamo essere più prudenti voglio vedere del rosso sangue rosso ai chi nasce in una giornata in cui chiude col segno meno anche rosso e quindi ecco perché magari non c'è sempre la conferma cominciamo cominciamo a 2a candela rossa chi nasce ha chiuso a 1 30 e 20 meno 1 e 48 la resistenza io la vado a tracciare sulla chiusura più alta quindi questa candela chiusura sempre chi nasce che è differente da quella ufficiale di mercato 1 34 e 40 e quando io dico primo scrivo nell'analisi testuale primo obiettivo il supporto 1006 per esempio in questo caso perché ora come ora è l'ultimo supporto valido che vedo ma è ovvio che se da qui il titolo dovesse ora anzi facciamolo sull'intesa che mi avete proprio martoriato mi avete martoriato con i commenti allora intesa tra le altre cose ha cominciato voi me l'aspettavo quando ho visto che ha aperto al rialzo intesa che ieri veniva da quasi meno 5 per cento aperto al rialzo già ho detto vedrai i commenti infatti sono arrivati subito i commenti nel mio articolo su investing poi ha fatto quasi meno 4 per cento dal prezzo di apertura quindi insomma anche oggi sono visti gli effetti ha poi rimontato qualcosa ha chiuso comunque con un caldo dell'1 per cento allora guarda bene guarda bene mettiamo in primo piano quando io dico candela rossa primo obiettivo a 1 33 78 e lì voi nei commenti 1 33 78 significa che qua una nuova ondata di contagi coronavirus crade tutto crollo dei mercati calma e sangue freddo rilassati 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 calma e sangue freddo io ti faccio un'analisi ti dico c'è la candela rossa la resistenza di riferimento non credi a questa inversione qualcuno ha scritto ho visto la tua analisi ho comprato 10.000 intesa ma per carità io non sto non è la mia analisi non è la verità assoluta può esserci assolutamente che da qui poi può capire può andare anche adesso torna tutto al rialzo per carità io mi soffermo ad commentare analizzare quello che vedo sui mercati la cronaca di quello che accade sui mercati se c'è stata quella candela rossa chi nasce vuol dire che a questo momento in questo momento sono grafici giornalieri io vivo la giornata vuol dire che in questo momento ci sono più venditori che compratori in questo momento nei prossimi giorni se andranno ad aggiungere altre candele rosse ai chi nasce io ti terrò aggiornato se vorrai seguire se non vuoi seguire nessuno ti obbliga a sentire e a vedere le mie analisi non si obbligare non te l'ha prescritto il dottore se vuoi andremo a vedere a seguire giorno per giorno e questo lo facciamo anche nella trading room vieni nella trading room ti aspetto ti aspetto lo facciamo se aggiungere altre candele rosse chi nasce io sarò ancora dell'avviso ma perché lo sta facendo il grafico e seguo le dinamiche tra compratori e venditori quindi io so solo mi attengo a quello che dice il grafico quella che espressione delle forze a rialzo a ribasso sul titolo in questione intesa san paolo se poi effettivamente perché adesso sto prevedendo che intesa andrà 1 e 33 78 dico che ora come ora c'è un'inversione a ribasso e qui nessuno mi può dire che non è così ieri più c meno 5 oggi un altro meno un per cento praticamente l'ha segnalato il grafico e chi nasce vediamo nei prossimi giorni se arrivate a metà strada o magari succede che va a violare la resistenza perché mi fa una chiusura giornaliera e chi nasce ai chi nasce sopra 1 80 24 è saltato quindi è stato solo una pausa di un trend decisamente al rialzo almeno in queste ultime settimane mentre se invece andrà ad aggiungere candele rosse candele rosse effettivamente arriverà a 1 33 78 io addirittura ti dico occhio perché da lì se persiste resta ancora il colore rosso e chi nasce può andare anche più giù perché fino a quando è rosso e semaforo rosso per gli speculatori al ribasso per me quindi io ti faccio una fotografia click una cronaca di quello che vedo sui mercati non sto dicendo prevedo che crollerà 1 33 78 primo obiettivo quando non vedo altri supporti se tu vedi che vedi altri per carità ripeto non è la mia analisi infallibile e quindi questo è spiegato tu poi magari integra con la tua analisi se non crede a questo ribasso va bene non sto dicendo niente non è che sto dicendo l'ho detto io vale per tutti quindi rilassatevi rilassate che vi fa male al cuore vi fa male al cuore agitarvi troppo e andiamo 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 alla lista blu dove ci sono quindi abbiamo visto a 2 a candela rossa ai kinashi primo obiettivo magari arriva qui arriva qui su questo che il livello da dove è ripartito e da qua parte vediamo siamo qui siamo qui a vivere giorno per giorno si viene a trend in room ancora più bello quello che accade sui mercati azimut meno 0 36 candela rossa sulla resistenza 17 e 85 vediamo se arriverà 14 03 se arriva qui a rosso non è detto supporti e resistenze sono destinate a essere violati potrebbe quindi andare più giù ecco perché aspetto una conferma del colore verde su supporto e rossa su una resistenza buzzi meno 3 meno 3 candela rossa ai kinashi sul livello di 20 euro potrà arrivare qui quando arriva qui che è stata una resistenza 18 e 21 vediamo io nell'analisi testuale metto primo obiettivo il primo supporto che vedo adesso 15 e 43 ma non sto dicendo che a quindi andrà 15 e 43 spero che sia chiaro guardatelo sto cacchio di video vi soffermate a commentare in maniera molto superficiale dai 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 e nì attenzione attenzione fermi tutti fermi tutti so che uno dei titoli più caldi richiesti all'interno della community di investing e c'è andiamola a vedere candela rossa ai kinashi qui addirittura non ho dovuto tracciare la resistenza su questa più alta resta quella dello scorso 2 aprile da dove poi con questa candela rossa dell'8 aprile qualche giorno dopo ci fu il movimento al ribasso su questo supporto in area 808 da dove era ripartito al rialzo quindi ora come ora la mia view è ribassista non ci credi non la fare ti consiglio di non restare al rialzo diciamo comunque perché una candela rossa non è bella perché al rialzo aspettare magari una chiusura giornaliera sopra 9737 per ritornare a cavalcare quel trend che era partito da giugno sul titolo eni ci credi sposi la mia ma sposiamoci da sposi la mia analisi vediamo se effettivamente scenderà fino a 808 come ci arriva 808 colore rosso oppure no bene questo questo insomma quindi niente di non sono un mago non c'è nessuno che ha la sfera magica nel 3d exor altra candela rossa ai kinashi livello di resistenza 54 e 68 fiat fiat candela rossa ai kinashi meno 270 il livello è anche piuttosto interessante verso i 9 43 quindi inverte al ribasso anche fiat e poi era meno 1 e 41 candela rossa ai kinashi resistenza di riferimento 3558 potrebbe arrivare qui lo aspettiamo qui siamo qua lo vediamo giorno per giorno guarda che bello leonardo guarda pure leonardo candela rossa sullo stesso livello da dove a metà aprile era poi sceso a 5 18 da dove era poi risalito quindi ora non credo che stia dicendo un'eresia qualcosa di così strampalato dicendo potrebbe potrebbe rifare lo stesso film come potrebbe andare più giù come potrebbe ripartire subito al rialzo un'analisi giornaliera day by day la viviamo insieme quindi poi ripeto non sei obbligato non ti piace donald diglielo 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 poi medio banca titoli bancari ovviamente sotto le vendite anche perché ieri la comunicazione della bce che ha detto niente dividendi per questo 2020 e quindi medio banca dopo tutto questo trend rialzo meno 1 80 potrebbero anche essere prese di profitto stanno giusto chiudendo posizioni a rialzo precedenti quindi vendite in questo momento ci sono più venditori ma venditori che stanno chiudendo dei long non perché stanno aprendo degli short e da lì riparte se succede ve lo dirò queste analisi assolutamente poste poste meno 1 e 15 candela candela rossa ai chinasci resistenza di riferimento 888 saipem che era uscito fuori da un training range sembrava proiettato verso magari lì di più in alto vette più in alto diciamo a questo punto niente inverte energetici un po tutto il settore ha risentito avete visto già eni e vediamo anche tenaris candela rossa e chinasci con resistenza di riferimento a 688 e ubibanka ubibanka 304 guardate questa situazione particolare ubibanka la candela rossa da dove aveva sbattuto la testa per più volte praticamente da novembre fino a gennaio novembre 19 fino a gennaio e poi vedete il bello delle candele chinasci qui non c'è stato il rosso effettivamente poi è partito al rialzo e al ribasso e ora guarda caso che coincidenza si sarà preso magari adesso starà lì come è successo qui per un po di tempo sotto questo livello per poi ripartire al rialzo oppure scendere di più non lo so non lo so lo scopriremo solo vivendo day by day in queste analisi e vedremo quello che succede poi andiamo avanti e unicredit aiaiaiaia unicredit candela rossa su unicredit 3.31 al ribasso a chiuso 8.63 euro 9.11 che va a riprendere quello che era stato il brillante supporto di agosto 2019 da dove era ripartito al rialzo e toccati la resistenza 14.22 anche qui vi faccio notare come il grafico a chi nasce uno magari vedendo quello che era successo qui questa ripartenza rialzo dice beh qua io già metto un buy limit verso questo prezzo no ti dico io no no non lo fare perché fino a quando non vedo il verde ecco perché le candele chi nasce indubbiamente vi aiutano a evitare molti falsi segnali stop è quello che era stata la resistenza ora si presenta come era stato un supporto qui ad agosto 2019 ora si presenta si è cambiato il vestito e si è messo quello della resistenza quindi unicredit inverte stanno invertendo oramai buona parte dei titoli per il resto queste sono quindi le novità rispetto a ieri poi per il resto andiamo a scorrere un po' atlantia che aveva invertito nel giorno dopo la candela rosa e chinasci effettivamente c'è stato un ribasso meno un per cento che c'è più tra tutti quelli cnh meno 5 ma ancora non si vede il rosso occo di asorin che si vede già traccia di verde potremmo invertire prendere come riferimento questo livello di supporto è nel alla fine ha chiuso negativo meno 0 40 ma ancora è verde il grafico e chi nasce fineico bello spunto rialzo più 350 vedete l'accelerazione con la violazione della resistenza 10 e 26 siamo su una fortissima resistenza ma il semaforo è verde verde attenzione attenzione potrebbe andare anche oltre questa fortissima resistenza poi fiat abbiamo visto generali meno 2 ma è ancora è ancora verde verde doji ai chi nasce ital gas giorno dopo la resistenza meno 1 e 18 intesa l'abbiamo già visto moncler la vigilia dell'assemblea ecco qua per esempio candela rossa non è partito il movimento al ribasso ma è ancora valida l'impostazione fino a quando non mi fa una chiusura giornaliera sopra 35 chiusura ai chi nasce che ricordo i prezzi sono differenti da quelli ufficiali chiusura ai chi nasce sopra 35 18 per me resta ancora al ribasso e poi e poi anche ricordati che sta sempre lì su questo supporto 40 e 93 se ferragamo il giorno dopo la candela rossa sulla resistenza 14 23 cede oltre due punti percentuali stm neutro scritto nell'analisi testuale non mi sta dicendo nulla niente candele doji rossa ma chiude positivo non c'è niente di interessante telecom italia che era arrivata a toccare 0 38 e 76 poi si è sgonfiato il rialzo solo 0 81 ma resta ancora il trend al rialzo e poi unipol sai perché non ho messo qui dovevo metterlo tra i blu sono dimenticato a mettere che c'è la candela rossa sulla resistenza 3702 che va a riprendere dei livelli toccati l'ultima volta come supporto febbraio 2019 quindi chiedo scusa mi ero dimenticato di questo ulteriore titolo in vers che ha invertito al ribasso bene tu sei già quello che ha detto la fed chissà chissà cosa sarà cosa sarà ne parliamo ti invito a partecipare ancora una volta al trading room è gratis è tutto gratis per commentare insieme a tutto quello che succede sui mercati appuntamento con le analisi e a domani grazie a tutti un abbraccio buona serata arrivederci anzi no scusate buona giornata voi la vedete di mattina quindi ci vediamo arrivederci grazie ciao